Giorno 367 della crisi idrica a Roma Non è il momento del panico e dell'intolleranza Servono prudenza, civiltà e umiltà Disineschiamo le polemiche Io al colletto l'ho pagata tutti! Non viene utilizzata nemmeno una goccia della rete pubblica Servono persone come lei per trasmettere fiducia La gente è pazzia Bravo, bravo! Dai, su! Cazzo! Amore di papà, c'hai 16 anni Devi ridere, innamorarti Mi piace uno Eh, non subito Eh, non subito Quando è che abbiamo smesso di essere felice io e te? Non sono mai stata felice Fintissimo Allora? Che futuro ci aspetta? Per la destra! Tutto testimonial! Erika! Affiliare"! Grazie per la visione!